Oh, tesoro, no, volevo dire, forse l'hai preso per sbaglio, magari, no? No. No? No. Non ci posso credere. Mi spieghi perché fai così? Che cos'è? Sembra un cellulare. Viene da qui. Viene da qui. Da qui? Sì, da qui. È il cellulare di me. Che ci fa qui? Tiago, è un messaggino di Tiago. No, non possiamo leggerlo, non è nostro questo telefono, non possiamo, è maleducazione. Come ti viene in mente, non lo so. Melody, stavo pensando che con Mar è finita. Se soffre, se soffre o no, sono affari suoi. Voglio stare con te. E tu? Giovanni, stavo pensando che con Mar è finita. E' questo? Con quindici incontri vinti e più di dieci avversari che ha mandato all'ospedale Ho il piacere di presentarvi... El Cascote! L'assassino! Ma che cos'è? Non può essere E con soli tre incontri disputati Ma con un enorme coraggio da vendere Accogliamo con un grande applauso L'Angelo Rosso! Franca, Franca mi ricevi? Si, cosa c'è? Tacho, sta per fare un incontro di catch in un club clandestino Cosa? Ecco perché ha tutti quei libidi, è un lottatore Fermalo! Come? Come faccio? Lo devi fermare! L'impianto fa troppa pressione sul lobo occipitale Se lo conquistano Lo possono uccidere Importante che tutti, tutti, tutti i preparativi, tutti questi Siano effettivamente i preparativi per il tuo vero viaggio Non capisco Bene Avrai tutte le risposte durante il viaggio Ma che cos'è questo viaggio? Un viaggio Un viaggio Un apprendistato Che come tutti i viaggi è un viaggio di conoscenza Adesso Devi sapere che Durante il cammino Tu incontrerai Dei personaggi strani Molto strani Qualcuno ti sarà amico Qualcun altro potrà esserti nemico Dipende da te Capire di chi potrai fidarti e di chi no Non ci capisco niente Va bene, mi spiego Mi spiego E così, bellissimo Comincerai a imparare Strada facendo Comincerai a capire Va bene così? L'importante è che Se supererai gli ostacoli Raggiungerai l'obiettivo finale Che è Trovare il messaggero E chi è? Il messaggero E chi è il messaggero? Uno Uno che ti rivelerà tutta la verità Bene E qui C'è tutto ciò che ti serve per il viaggio Ma questa borsa è vuota Sì, ma quando ti servirà qualcosa La troverai Devo partire adesso Sai una cosa Nonostante tutto quello che ci è Che ci è capitato Ah no, 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 no Non c'è tempo per gli addi Per gli addi non c'è tempo Non c'è tempo per gli addi Però io sento che Bene Cioè per un abbraccio Per un ultimo abbraccio Pensi che ci rivedremo ancora Lo spero Sielo Devi trovare il messaggero Di là Guarda tu ferro Tu esprit Tu esprit tu esclare Tu esprit tu esclare Tu esprit tu esclare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.